stivaletti boot desert della loa stivaletto nuovo sul plus esercito inglese scatola come idolato con codice a barre manualino di istruzioni solido stivaletto pelle rovesciata ovviamente protezione in gomma molto rigida puntale in materiale termoplastico rinforzato internamente imbottito molto solido ganci tutti metallici lacci in meraclone antimuffa anti umidità suola vibram non c'è il classico bollino giallo ma è dello stesso colore della suola vibram cordura cartoncino librettino interno con specifiche dei materiali e varie altre info sull'utilizzo la taglia viene scritta all'interno in questo label di fabbricazione tedesca materiale molto buono prezzo decisamente basso nonostante il colore sono prettamente invernali in quanto ideati per essere totalmente impermeabili all'acqua